Ciao a tutti e benvenuti in questa nuova serie di Rally Bob dal nome Mission Gibraltar Race. Con un ospite d'eccezione, Franco Picco, vi porteremo a scoprire tutta l'Italia. Franco, sei pronto? Sì, sono pronto. Siamo a Livorno, siamo sul traghetto che parte, che comincia con la prima isola, poi isola prima Sardegna, poi Sicilia e poi dalla Calabria facciamo l'autoreo stivale, debut come si chiama la gara. Bene, quindi seguiteci perché ogni giorno ci sarà una pillola che è tutta dedicata all'Italia. A presto! Grazie per la visione! Giorno 1, qui in Sardegna, la Gibraltar Race 2021. Partenza da Olbia, arrivo a Calaganone. Calaganone, sì. E dove stiamo andando? Beh, adesso siamo qua in centro all'isola e stiamo andando un po' verso il sud, poi ci spostiamo verso l'est, in riva il mare dove c'è appunto Calaganone. quindi stiamo guardando tutta la Sardegna. Ti stai divertendo? Beh, il paesaggio è bellissimo. Anche la giornata è buona, non c'è proprio il super sole e caldino, ma insomma ci vuole. Avanti tutta! Non c'è un bel caldino. Chi frappe La Sardegna non si smentisce mai, è sempre bellissima. Mi sono fermato un attimino perché è qui un vero spettacolo. Appena terminata questa prima tappa della Gibraltar Race 2021, una decina di ore in sella e più di 400 km immersi in paesaggi davvero epici, bellissimo. Se questo è l'inizio ci sono tutte le premesse perché sia qualcosa di davvero indimenticabile. A domani! A domani! A domani! A domani! A domani! Grazie a tutti